Il giallo delle mimose non bastava e Piazza Bra ha scelto l'arcobaleno per la festa della donna. Oggi hanno infatti avvolto i San Pietrini ben 10.000 quadrati di maglia lavorata ai ferri e all'uncinetto. Una lunga coperta colorata voluta dall'assessorato alle pari opportunità in collaborazione con l'associazione Ad Maiore e l'associazione cattolica internazionale protezione della giovane. Abbiamo raccolto 10.000 quadrati di lana che sono servite oggi ad abbellire la nostra bellissima già Piazza Bra, ma anche a dare un significato forte. 10.000 persone che hanno apposto la loro firma su ogni quadrato a testimonianza che ognuna di loro si è presa un impegno. Viva Vittoria l'hanno chiamata Coperta di Giulietta, invece il sottotitolo di questo progetto nato a Brescia nel 2015 è arrivato anche a Verona. Un'iniziativa dolce, come la descrive il sindaco Tosi, che nasconde una ragione importante. Per aiutare le donne che hanno subito violenza e vogliono uscirne, vincitrici, noi abbiamo pensato di mettere in vendita questa opera d'arte condivisa relazionale. Abbiamo messo insieme un sacco di realtà, anche uomini che amano le donne, che si sono cimentati nel lavoro a ferri. Dorate mimose o meno, vestono invece di nero con un dettaglio fucsia le veronesi che hanno deciso di manifestare in centro storico aderendo allo sciopero del movimento internazionale, non una di meno. E di certo non sono le sole a scendere in piazza. 40 circa paesi nel mondo aderiscono e oggi sciopero, non dicono no alla violenza di genere, quindi sciopero dalle attività lavorative di consumo, di riproduzione e di cura. Oggi non si lavora, siamo unite contro la violenza di genere.